Sono venuta a Roma Center Climb perché cercavo un posto dove fare uno sport diverso e tra le varie selezioni ho deciso che la rampicata era quella giusta e Roma Center Climb mi ha stimolato per questo metodo che ha Marco Nescatelli e la cosa che mi ha affascinato perché era un po' sovrappeso che lui diceva che il peso non era importante e quindi ho deciso di fare questa prova e sono andata avanti. Quello che Marco diceva nei suoi video che io ho visto qui a Roma Center Climb bastano pochi passaggi fatti giusti è importante non avere muscoli ma è importante essere centrati essere su se stessi è un modo di prendere lo sport e la vita in un modo diverso va seguito va capito però è una cosa fighissima che ti fa sentire bene e non solo fisicamente ma anche mentalmente lo consiglierei l'ho già fatto lo consiglierei ancora l'ho consigliato a mio cugino ma lo consiglierei anche ai miei amici lo sto facendo ho provato a portarci anche mia figlia e continuerò a provarci perché ti cambia letteralmente la vita non è la rampicata classica è il cataclimb è una cosa diversa prego grazie a te